Sistema, rilevato. Drone restauratore traditori, rilevato. Drone restauratore nemico, rilevato. Sistema, attivato. Agente a terra. Drone restauratore traditori, rilevato. Alveare restauratore nemico, rilevato. Arresto del sistema. Drone restauratore nemico, rilevato. 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 Sistema sospeso. Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata. Mina a ricerca esplosione aerea nemica rilevata. Sistema ripristinato. Malfunzionamento del sistema. Torretta assaltatrice traditori rilevata. Torretta assaltatrice nemica rilevata. Sistema riattivato. Sistema attivato. 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 Porca vacca, ce l'hai fatta, è incredibile Torna al porto agente, ti meriti una vacanza Non posso credere che te la sia cavata così Io non ce l'avrei mai fatta ad affrontare un lavoraccio del genere Torna al porto agente, ti meriti una vacanza